Avambraccio incastrato nel nastro trasportatore operaio soccorso con l'eliambulanza Pesaro 2024 la parola ai cittadini dopo otto mesi da capitale della cultura Gabice Mare si conferma meta molto ambita alto il numero di turisti anche in questa estate Dal 30 agosto al primo settembre la cultura dello sport arriva con Pesaro Challenge La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro continua la sua preparazione spinta da oltre 200 tifosi Benvenuti al nostro telegiornale da parte di Emanuela Rossi Questa sera in questa edizione di mercoledì 28 agosto apriamo con una notizia di cronaca Momenti di grande tensione infatti questa mattina intorno alle 8.45 in un'azienda specializzata Nella lavorazione di materiale edile a villa fastigi dove si è verificato un grave incidente sul lavoro Un operaio per cause ancora in corso di accertamento è rimasto con l'avambraccio incastrato in un nastro trasportatore Rischiando serie conseguenze L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco Fortunatamente grazie all'intervento tempestivo dei colleghi dell'operaio è stato possibile liberare l'uomo dal macchinario prima dell'arrivo dei soccorsi I sanitari giunti sul posto hanno stabilizzato l'operaio che è stato trasferito d'urgenza con l'egliambulanza all'ospedale di Torrette dove riceverà le cure necessarie Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche l'ispettorato del lavoro che ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente E verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda Cambiamo completamente argomento e andiamo a parlare di Pesaro, capitale della cultura 2024 E lo facciamo attraverso le voci dei cittadini che hanno espresso i loro pareri su quest'anno così importante per la città di Pesaro Tra chi ha elogiato il lavoro svolto con gli eventi storici e chi ha invece proposto di riflettere sul significato di cultura E allora ascoltiamoli L'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, ha ormai superato la metà del suo ciclo E visto concludersi alcuni degli eventi più importanti ed iconici per la città pesarese, tra questi il Roff su tutti Girando per la città si avverte gradimento da parte di alcuni cittadini Mentre altri aprono una parentesi quasi filosofica sul significato della parola cultura La critica principale viene invece rivolta alla comunicazione degli eventi in calendario Gli eventi, dico la verità, non sono molto informato Cioè, vorrei essere informato ma ho preso l'opuscolo degli eventi, di quelli che suonano qui I vari complessini, i vari cose, non c'è scritto niente Ogni tanto vedo un amico che suona al mare, suona, fa il gruppo che suona Però non c'è scritto niente, tocca andare... dove suoni? Invece anni e dietro c'era scritto tutto Dove suonavano quelli, dove suonavano gli altri E' stata un po' ristretta la cosa Cioè, non mi piace, ecco, tutto qui La cosa più importante Il Roff è andato bene 21.000 presenze Hanno scelto il posto giusto lì, perché non c'è più i pullman in giro E quello è un evento molto, quello che copre tutto, diciamo, il Roff Come avvenimento più importante Il resto, la mostra del cinema è andata bene anche quella Tanto Pesaro è questa, eh Gli eventi simbolo hanno rispettato le aspettative Sì Un voto da 1 a 10, secco? Ah, per Pesaro quello che hanno fatto il comune, quello che poteva fare 8, 9 Il resto è la colpa della natura 8 e mezzo, quindi? Eh, la natura dopo ha messo E con la mucillagine Io non sono mai andato al mare quest'anno Io quest'anno non sono mai andato al mare La cultura che si intende? Facciamo una bici quadrata della cultura Che si intende? Cogliore, vogliamo intendere la cultura Raccogliere l'erba? Raccogliere gli ortaggi? Qual è la cultura? Comparsa, tolta, cancellata Dovrebbero trasmettere in tv 24 ore Se 24 ore per dire la cultura è questa Anche i genitori di una certa età Hanno bisogno di capire che cosa è la cultura Che hanno dimenticato E' tempo di bilanci non solo per Pesaro 2024 Ma anche per la stagione estiva Che si avvia ormai alla conclusione Le mucillagini sicuramente nel nostro territorio Hanno giocato un ruolo negativo Tuttavia ci sono dei comuni come quello di Gabice Mare Che hanno registrato ugualmente un'alta presenza di turisti La stagione turistica di Gabice Mare Così come per tutte le città della costa Sta per giungere al termine Iniziano dunque ad emergere i primi bilanci Da parte degli addetti al settore e dell'amministrazione Che giudicano i mesi estivi in positivo Nonostante il problema delle mucillagini Tanti infatti turisti ospitati dal comune di Gabice Così come elevato è stato il numero dei presenti e partecipanti Alle attività e agli eventi proposti durante l'estate Al momento la stagione è molto positiva I dati sono in linea con l'anno scorso Quindi giugno, luglio al momento bene E agosto vediamo il prossimo mese con i dati che riceveremo E sicuramente le condizioni Anche il problema di mucillagini non ha aiutato Però i nostri turisti sono riusciti a trovare strade alternative Utilizzare il parco, visitare i paesi circostanti Gradara, San Marino Quindi parlando anche con le associazioni Hanno trovato strade alternative E sono comunque stati contenti di venire da noi in vacanza a Gabice La partecipazione è molto presente Tutti gli eventi che abbiamo organizzato Sia le serate in piazza al sabato Sia la notte delle candele Tutti gli eventi organizzati dai ragazzi giovani della consulta Sono sempre state partecipate E quindi vuol dire che è un segnale sia per gli abitanti del posto Sia per i turisti Che la nostra programmazione funziona E continueremo su questa strada Cambiamo di nuovo argomento Adesso parliamo di scuola Perché continuano i lavori di efficientamento energetico Negli edifici scolastici della città di Pesaro Dopo gli interventi alla Grande Quercia E alla Lilliput a Villa San Martino Alla scuola Arca delle Colline di Santa Maria della Rzilla E la Giostra di Via Filzi Si stanno completando anche quelli di rigenerazione Alla scuola Peter Pan di Via Livorno Come spiegato dal sindaco Andrea Biancani E dall'assessora alla manutenzione Mila della Dora Che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo I lavori hanno previsto la sistemazione del cornicione esterno Che aveva una parte di cemento ammalorato Per circa 24 mila euro E la sostituzione e l'ammodernamento di tutti gli infissi Per circa 78 mila euro Parallelamente proseguono i lavori Alla scuola elementare Gian Santi In Via Mol Falcone Dove l'amministrazione sta intervenendo sui bagni Sulla palestra e sulla mensa Piccole attività che permetteranno di avere ambienti rinnovati Entro la riapertura dell'anno scolastico Ed ora ci spostiamo a Fano Ed esattamente in Piazza Costa Che da settimane è ormai attenzionata dai più Per via degli scavi archeologici che l'hanno coinvolta E se c'è chi chiede di rimuovere le impalcature C'è anche chi invece vorrebbe approfondire Le ricerche nella speranza proprio di trovare Importanti lasciti della Fano romana Vediamo Piazza Costa a Fano È da tempo ormai sotto l'occhio del comune Dei cittadini e della soprintendenza Per via degli scavi archeologici in corso Che hanno creato due anime Una è quella dei commercianti Che chiedono di poter tornare a lavorare Senza le impalcature intorno alle loro attività L'altra invece Quella di vari cittadini Che chiedono di valutare l'importanza degli scavi in corso Poiché potrebbero celare Il cardo massimo di Fano O informazioni utili sulla Basilica di Vitruvio Il punto della situazione lo dovranno fare Gli organi competenti Quindi la soprintendenza e il comune Io osservo quello che sta succedendo Vedo che dopo l'appello fatto al sindaco e alla soprintendenza Qualche cosa si muove per l'esplorazione archeologica Quindi i prossimi giorni bisognerà aspettare Poi le informazioni su quello che si trova E' bene che lo dia soprattutto la soprintendenza Io avevo sollevato Parlo per me Ma anche il comitato Anche questo gruppo di persone che si sono mosse Si sono mosse a seguito del mio intervento Noi avevamo Io avevo chiesto che si verificasse l'ipotesi dell'esistenza In questo settore di lavoro L'esistenza del cardo massimo della città Perché questo è uno dei due problemi fondamentali Della topografia romana di Fano E' stato detto che sono state trovate delle tombe E le strutture che appartenevano alla chiesa di San Daniele Che è demolita nel 1910 Per la costruzione del mercato del pesce e delle verdure Ma poi io tanto altro non so Alla ipotesi del cardo massimo E' legata anche l'ipotesi della localizzazione della basilica vitruviana Che doveva essere nelle vicinanze dell'incrocio Tra il cardo massimo e il decumano massimo della città Il decumano massimo che è via Arco d'Augusto Quindi qui siamo a due passi da noi L'abbiamo messa sull'avviso Che era un'occasione irripetibile Per verificare appunto l'ipotesi che le ho detto Dell'esistenza del cardo massimo qui O dell'esistenza di altre costruzioni Perché se non c'era il cardo massimo c'erano altri edifici E a lato del cardo massimo comunque ci dovevano essere altri edifici romani In una città che investe tanto sulla romanità Vedevo qualche giorno fa la registrazione della Fanno dei Cesari Una cosa così partecipata di massa eccetera Non si possono lasciar perdere occasioni come queste Di investigazione del patrimonio archeologico E le telecamere di Rossini TV si sono accese ieri sera In occasione dell'evento Le Buone Notti della Cultura Che vede il comune di Montellabate Capitale per una settimana nel progetto di Pesaro Capitale Italiana della Cultura Vediamo un piccolo estratto dello speciale televisivo Che potrete vedere in onda domani sera alle 21.20 Chiaramente sul canale 80 Tornano le Buone Notti in versione compact Belle compresse in una settimana Ad affiancare Pesaro nella settimana In cui anche Montellabate diventa capitale italiana della cultura Uno spettacolo Sì, tornano le Buone Notti Le Buone Notti della Cultura Abbiamo intitolato appunto per riprendere questo format Come si dice insomma Già sperimentato in questi anni Nelle ultime estati È una settimana piena di eventi E tra questi eventi di varia natura Di vario genere Con varie proposte Non poteva mancare Farneto Questo nostro borgo antico È pieno di bellezza È anche ricco attorno di un paesaggio bello Delle nostre colline Per rendere omaggio questa sera a Don Ciro Scarlatti Questa figura di prete, poeta e cacciatore Che è scomparso ormai da più di 60 anni Però rimane potentemente nella memoria E nei ricordi delle persone Cosa vi aspettate da questa settimana Nella quale Montalabate affianca Pesaro Nell'essere capitale italiana della cultura? Ma ci aspettiamo tanto interesse Tanto entusiasmo Come abbiamo visto dalle prime battute Della settimana Con molta partecipazione di pubblico Ed è una settimana Che è tenuta insieme da diversi elementi Dalla memoria Dal paesaggio E anche dal presente Quindi valorizza Il nostro mondo Diciamo così Il nostro angolo di mondo A 360 gradi La settimana della cultura di Montalabate Si chiamano le buone notti della cultura Questo vuole essere una prosecuzione Di un progetto che va avanti Da ormai dieci anni Delle fantomatiche buone notti Che hanno popolato il territorio Negli ultimi anni E che hanno fatto scoprire Il territorio di Montalabate Quello che abbiamo voluto fare Con la settimana della cultura È stato proprio quello di riproporre In sette giornate In sette giorni Durante questa settimana Proprio le buone notti Con lo spirito dell'inizio Quindi saranno Degli appuntamenti Prevalentemente serali Tranne che per alcuni Alcuni eventi Si svolgeranno Tutte le sere Dalle 21 in poi Saremo nei peschetti Saremo in collina Saremo nei borghi storici Come Farneto Questa sera E poi Finiremo anche In luoghi Della memoria Come La linea gotica Dove vedremo dei film Ascolteremo dei concerti All'alba E Tanto altro insomma Dopo aver firmato L'accordo Lo scorso marzo Con il presidente Della regione Marche Francesco Acquaroli Per la realizzazione Di una linea Autobus A transito Rapido Di collegamento Vallefoglia Pesaro Il sindaco Di Vallefoglia Palmiro Ucchielli Ha richiesto Di velocizzare L'attuazione Del progetto Per la realizzazione Di questa importante Nuova infrastruttura Il bus elettrico A basso impatto Ambientale Finanziato Dalla regione Marche Nell'ambito Del programma operativo Del fondo europeo Di sviluppo regionale Sarà un progetto Pilota Teso a promuovere Un sistema Di trasporto Pubblico Rapido E leggero Che dovrà dare il via Alla riconfigurazione Dei servizi Per la mobilità Di tutto Il territorio Conto Alla rovescia Per la mezzanotte Bianca Dei bambini Che torna Venerdì e sabato Dalle 18 Alla mezzanotte A Pesaro Con la sua Quattordicesima edizione Pronta ad affascinare Divertire Far crescere I piccoli Di ogni età Per le due Mezze serate Del 30 E 31 agosto A ingresso libero E gratuito In attesa dell'evento I piccoli E le piccole Della città Stanno prenotando Sul sito Coccolesonore.it I circa 1000 zainetti Con all'interno Colori e disegni Da colorare Che saranno Distribuiti Gratuitamente E fino a Esaurimento scorte Dalle 18 Alle 23 Allo Sparvi Point Di Piazza del Popolo Un programma Quello dei due giorni Ricco di appuntamenti E pronto ad accogliere Innumerevoli personaggi Rossini TV Realizzerà uno speciale TV Dedicato Che potrete rivedere In onda Mercoledì 4 settembre Alle ore 21 e 20 Venerdì 30 agosto A Borgo Pace Negli spazi Del chiosco Forte A Pace In località Campitelli Protagonista La prima edizione Di Cascio Burger Fest Il panino gourmet Nato da un'idea Di Bovin Marche E del consorzio Tutella Casciotta D'Urbino Dop L'evento si apre Alle ore 18 Con il talk Sul Cascio Burger Dalle 19 alle 22 Apertura degli stand Dedicati A cui farà seguito La musica Con DJ set Spazio inoltre Alle attività ludiche Con la prima gara Di mangiatori Di Cascio Burger Quiz Sui prodotti tipici Delle Marche E un'area giochi Con attività Dedicate ai bambini Presente anche In questo caso Rossini TV In questo caso Realizzerà uno speciale Che andrà in onda Giovedì 5 settembre Alle 21 e 20 Continuiamo a parlare Dei tanti eventi Che avvengono E stanno ancora Continuando Nella nostra provincia Di Pesaro Urbino In questo caso Torniamo a Pesaro Per parlare Di cultura sportiva Con Pesaro Challenge Che dal 30 agosto Al primo settembre Alla Palla di Pomodoro Convolgerà Oltre 40 realtà Sportive del territorio Tra sfide Eventi Musica E tanto altro Ancora Vediamo il servizio Pesaro Challenge Ritorna con la sua Quarta edizione La manifestazione Che porterà Dalle 30 agosto Alla primo settembre Alla Palla di Pomodoro Oltre 40 attività sportive Per promuovere La pratica E la cultura Dello sport Dove non mancheranno Eventi serali Di musica Danza E tanto altro ancora Finalmente Torna la vetrina A distanza di un anno La vetrina dello sport Delle società sportive Territoriali Non solo Anche della provincia Di Pesaro E presenze Di società sportive Che vengono anche Da altre regioni Perché Pesaro Capitalità Nella cultura Mette insieme Porto per quello Per quello che riguarda La manifestazione Pesaro Challenge Abbiamo delle riconferme Importanti Come Vari tornei Gare Tipo la gara di nuoto Il torneo Di biliardino Il torneo Di mini basket Il torneo Delle vecchie glorie Abbiamo inoltre E questi sono Degli eventi nuovi Abbiamo le riconferme Dell'esibizione Della danza sportiva Del maestro Fiorenzo Di Pesaro Balla Domenica sera Venerdì Ci sarà la terza edizione Della sfilata Fantastican Dedicata ai cani E inoltre Abbiamo l'urban Plogging Domenica Primo settembre La mattina Alle 11 Aperto a tutti L'urban Plogging Mentre la sera Il pomeriggio Alle 18 Il Plogging Race Aperto per le squadre Di 5 atleti E' un evento Che è stato Un crescendo rossignano In termini di partecipazione Di attenzione E' un evento Che è cresciuto Dal punto di vista Non solo dello sport Ma anche della sostenibilità Dell'etica Dei valori Che all'interno Di questo evento Si possono respirare C'è la parte dedicata All'ast La parte dedicata Agli animali La parte dedicata Alle donazioni E ovviamente La parte dedicata Ludica Allo sport Ma Un luogo Nel quale Noi Crediamo molto Quindi Invito tutti A essere presenti In questi giorni Di Pesaro Challenge Perché si respirerà Tanto sport Tanta prevenzione Tanta voglia Di stare insieme Novità assoluta Di quest'anno È la Challenge Card Che evita i partecipanti A provare L'attività Dell'evento Per ricevere Dei timbri Una volta completata La tessera Riconsegnandola Si potranno ricevere Magnifici premi È un passaporto Che serve praticamente A indirizzare Tutte quante le persone A praticare gli sport L'obiettivo è quello Di incentivare E far venire voglia A tutti i partecipanti Alla Pesaro Challenge Di andare alle postazioni Delle varie associazioni sportive E scoprire gli sport proposti Quindi è un modo Come dire Per aiutare le persone A scoprire E a fare sport E a muoversi Verso lo sport Diciamo quindi Il funzionamento È molto semplice Si ritira Alla postazione Decathlon La Challenge Card Poi si va A levare postazioni Ogni postazione Apporrà Un timbro Una volta che La pratica sportiva È stata provata E grazie All'aver completato Tutti gli sport Presenti All'interno Della Challenge Si avrà diritto Ad un insieme Di vantaggi Offerti Sia da Decathlon Ma anche Dalle altri Attori E dalle associazioni sportive Che hanno partecipato Quella giornata E come promesso Ieri Questa sera Chiudiamo il nostro Telegiornale Facendovi vedere Alcuni estratti Dell'allenamento Del primo allenamento Della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro E allora Andiamo a vedere Le riprese E anche le interviste Quest'anno Con il fatto Che c'è una promozione Unica diretta Più uno è playoff Tutti sono concentrati Ovviamente All'obiettivo Che è quello Di salire direttamente Senza passare Le playoff Quindi sarà Un campionato Molto molto impegnativo Le squadre Si sono rafforzate Io penso Che ce ne sono Almeno otto Nove Che vogliono fare Provare a fare Il colpo Fin da subito Si giocherà I tabelloni Contro magari Anche americani O comunque Gente Grossa Ma sai Quello è molto Dipende da partita A partita Da giocatore A giocatore Ormai il basket Sta cambiando Non c'è più Il centro di ruolo Siamo tutti Molto dinamici Che si possono aprire Un tiro dalla media E così via Quindi dobbiamo essere bravi Difensivamente Quando sarà l'occasione Di marcare Cinque più grossi Di noi E come potrà capitare Di marcare Giocatori più piccoli E più rapidi Purtroppo Non è facile Tu giustamente Dici Il cinque di ruolo Però Ora È più importante Avere un lungo Che possa fare Entrambe le cose Che non farne Una sola Quindi siamo Penso Un ottimo pacchetto lunghi Ci consolidiamo insieme Possiamo fare tante cose Anche le stesse cose E quindi Abbiamo molte più soluzioni Sia in attacco Che in difesa Ti è sorpreso Il fatto di trovare oggi Più di 200 persone Sugli spalti Con questo caldo Devo dire Guarda che Quando all'inizio Appena abbiamo iniziato Ce ne stava una quindicina Ho detto Vabbè Giustamente fa caldo È da capire Invece poi Man mano si è riempito E non pensavo Quindi sono molto contento Si vede che c'è molto affetto Molto calore Da parte del pubblico Della città E se ci sono oggi 200 persone Penso che Sarà solo un crescendo Nel corso della stagione Io sto provando A migliorare tutti gli aspetti E provo a fare individuali Sempre che posso Sia a difesa Sia in attacco Anche palleggio Su tutti gli aspetti Perché Sono ancora in età Di farlo E quindi Provo a migliorare Un po' tutto Sinceramente Finito il campionato Visto che andavano via tutti I tifosi temevano Che anche tu Magari avresti guardato Altre possibilità Perché hai scelto Di rimanere a Pesaro Perché ho visto Che era la situazione Che la migliore situazione E poi Con le parole Che mi hanno detto Tutto quello che ho sentito Non era difficile Scegliere Un posto così Non lo trovi facilmente Una piazza così Non la trovi facilmente Un'opportunità Molto bella Anche per la squadra Che si sta costruendo Quindi Non era difficile Scegliere alla fine Molti mettono Cantù In prima fila Pesaro subito dietro Secondo te Chi sono le più temibili Per la promozione diretta Soprattutto Ma è chiaro Che ci sono Delle squadre Allestite molto bene Cantù è forte Udine Brindisi Noi dobbiamo pensare Solo a noi Dobbiamo pensare A andare in campo Per vincere E provare a vincere Tutte le volte Che andiamo in campo Sai che Si è aperta La campagna Abbonamenti Addirittura Vabbè Hanno aperto Alle 4 di mattina Perché la gente Era già in fila È una piazza È una piazza sorprendente Per il basket Questo Ma guarda Sono molto contento E sono convinto Del fatto che Questo pubblico Possa essere La nostra arma in più È chiaro che noi Faremo tutto il possibile In campo Ma se Tanta gente Verrà ad aiutarci Dagli spalti Per noi Potrebbe essere più facile E allora Come avete visto Tantissimi tifosi Hanno partecipato A questo primo allenamento In casa Appunto Della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro E come sapete Rossini TV Vi darà sempre notizie Riguardanti questa squadra Ma restate con noi Perché tra pochissimo Vedrete L'approfondimento Dedicato a Pesaro 2024 In cui si parlerà Proprio di questa Settimana capitale In cui protagonista È il comune Di Montelabate E poi questa sera Le 21.20 Venite a scoprire Sul canale 80 Legno e Arte Una bellissima realtà Di artigiani Nella nostra provincia Di Pesaro Urbino Meravigliosa Veramente Che fanno opere D'arte Utilizzando appunto Il legno Del nostro territorio Domani invece Vi aspetto Nel consueto appuntamento Con la rassegna stampa Quindi puntuali Alle 7.20 Il telegiornale Invece torna Domani alle 19.30 In replica Alle 20.30 Grazie E buona serata Di Pesaro Urbino